salve a tutti ragazzi bentornati al canale dei marchesi rosso e blu allora io prima di parlare della partita voglio parlare di un'altra vicenda allora io penso che per quanto riguarda la vicenda dell'illuminazione dello stadio no io credo che una cosa così nel 2024 cioè non si può più vedere c'è già successo l'anno scorso nell'amichevole col perugia poi è successo con la lucchese adesso gli succede st'impianto va messo a posto cioè gli aveva fatto qualcosa vanno fatti dei lavori io spero che insomma si rimetta si possa fare qualcosa io non so cosa è successo però non possiamo ogni volta che giocamo di sera invece la batterella di core che forse salta ai rischi di perdere 3 a 0 a tavolino cioè non è ammissibile una cosa del genere comunque detto questo ribonasera a tutti i ragazzi bentornati al canale di marchesi rosso blu di nuovo gubbio ternana 0 a 0 allora vi dico il mio giudizio secondo me risultato giusto è vero magari la ternana ha avuto qualche occasione in più anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni è sicuramente infatti nel primo tempo siamo partiti veramente forti abbiamo fatto un calcio molto aggressivo proprio per andarle ad aggredire nella loro area di rigore poi diciamo è stata una partita che si è giocata molto 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 tattica molto a centrocampo infatti tiri in porta non ce ne sono stati pochi l'occasione più più clamorosa è stata quella del nostro difensore che purtroppo per andare a anticipare le donna ruma fa un colpo di testa che momenti se la butta dentro da solo e venturi fa un miracolo che la butta in calcio d'angolo però diciamo che nel primo tempo grosse occasioni da una parte e dall'altra oltre lasciandolo sta quella che ci siamo fatti da soli però beh ci sta succede può succedere non ce ne sono state ora parlando del secolo del secolo dopo c'è stato quel famoso breakout qua pochi minuti dalla fine che vabbè lasciamo sta però ecco parlando della partita tutto sommato mi viene da dire che comunque sia è un pareggio che ci sta ci sta perché le squadre hanno giocato entrambe molto in maniera molto tattica la ternana ha pensato più a fare un gioco che si basava sul sul gioco degli esterni per cercare di rimettere dentro per per i loro attaccanti che poi alla fine stavano facendo questo gioco in maniera molto 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 pesante con cianci che attaccante importante infatti un appunto strutturata che secondo me al gubbio servirebbe un tipo di attaccante del genere però ovviamente questo è un mio giudizio e io non è che sto qua a fare anche perché i ragazzi sono stati bravissimi a taurino non si può dire nulla nulla non si può dire niente poi parliamoci chiaro abbiamo fuori il nostro pezzo da 90 che è di massimo che speriamo che rientra il prima possibile sicuramente non so se giocherà a perugia però è un pezzo da 90 che al nostro arco sarebbe molto importante averlo come freccia poi vabbè parlando del secondo tempo appunto già un pochino l'ho accennato come parlando appunto di cianci che è entrato mi sembra al 20 quindi dalla fine credo al settantesimo una roba di genere secondo tempo è stato noi leggermente non più spenti abbiamo più abbiamo rinunciato di un po di più alla parte offensiva per concentrarci di più sul centrocampo per cercare di contenerli e ripartire che è una mossa che tecnicamente per metà anche anzi anche oltre ha funzionato perché la ternana è stata ben tamponata in difesa per cercare di non fargli fare pressoché quasi niente poi alla fine mi ha preso campo gli ultimi minuti ha avuto diverse occasioni sempre con cianci e diciamo che appunto è stata diciamo una mossa giusta che però dopo la ternana aveva più benzina in corpo di noi per cercare di provare a vincere la partita ma nonostante tutto il gubbe è stato difensivamente perfetto davanti siamo stati un po così però ci sta perché non tutte le partite sono uguali poi dursi non erano nelle migliori condizioni infatti è stato sostituito rovaglia cerca di fare quello che può però ovviamente un ragazzo che deve crescere un ragazzino che è stato messo in campo anche per cercare di fargli fare le ossa faggi ha giocato penso l'esordio ha giocato poco niente quindi sono tutti i ragazzi che dovranno trovare i minuti nelle gambe e quindi sicuramente ci sarà il loro tempo il loro momento aspetto di vedere giovannini come attaccante perché è un ottimo esterno è un ottimo giocatore sa fare veramente io perché l'ho visto già anche in altre partite sa fare veramente diverse cose un ottimo giocatore poi a carino ha provato a fare qualcosa è subentrato nel secondo tempo comunque si è fatto vedere energico per far vedere la sua presenza quindi questa è una cosa molto positiva ecco una cosa bella di questa squadra è che butta il cuore oltre l'ostacolo nonostante le difficoltà magari che ci sono state all'inizio con un organico ridotto all'osso e tutto il resto è una squadra che butta il cuore oltre l'ostacolo migliore in campo assolutamente proietti stato proprio magistrale un perno che ha preso la palla la girata a destra la girata a sinistra ha fatto esattamente quello che voleva e di conseguenza è secondo me il migliore in campo a mani basse ora archivata la ternana siamo a sette punti per una notte siamo primi in classifica per una notte aspetteremo di vedere la virtù centella contro l'ascoli che giocherà domani e noi adesso ci concentriamo al prossimo derby quello che andremo a giocare a perugia e vedremo la ternana qua non vinceva dal 1954 e sono stati tutti i pareggi e questo è stato l'ennesimo pareggio vedremo invece il tabù nostro laggiù se riusciremo a sfatarli invece loro non ci sono riusciti i ternani speriamo magari che noi riusciamo a sfatarlo questo famoso tabù perché visto che perugia non è un campo molto amico nostro per quanto riguarda i punti staremo a vedere ragazzi complimenti alla ternana sicuramente una squadra che rotterà per i vertici della classifica è inutile dirlo una squadra che ha donna rumma che ha cianci che ha veramente giocatori di prima di primissima fascia non può non arrivare tra le prime tre assolutamente la ternana tutto e quindi dico un in bocca al luco ai cugini umbri ternani e niente per quanto riguarda noi ragazzi continuiamo con il nostro percorso siamo a sette punti in tre partite che è un avvio veramente veramente importante un punto giusto che accontenta entrambe le squadre perché alla fine l'andamento della partita era quello poteva essere anche la classica partita che sembra che c'è lo 0 a 0 e un guizzo può far vincere la squadra o una 0 l'altra 0 a 1 però alla fine credo che sia giusto così le squadre hanno lottato bene hanno sono equivalze in campo è uno 0 a 0 che accontenta entrambe le squadre sono punti che si muovono la classifica e tutto sommato io sono contento così bene raga ci vediamo al prossimo video sarà la partita contro il perugia quindi più o meno tra una settimana e vedremo come andranno le cose ciao ragazzi